Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft siamo tornati nelle bedwars e nello scorso episodio Stephanie ci ha portato nella modalità team da due contro team da due e Era tipo la seconda volta che la facevo ma personalmente non mi piace tantissimo perché Cioè è vero che dipende tutto da te praticamente o ma sempre sta mappa mi esce incredibile sempre sta mappa esotica con le navi comunque dipende tutto da te e tutto quanto però Ehm Nel senso non c'è mai modo di fare una sinergia di quelle belle di gruppo Anzi io ho appena fatto una partita poi non so perché mi è saltata la connessione non non sono riuscito più a Rientrare in partita e la mappa era sempre questa sarà perché con la nuova e quindi tutti cercano di giocarla Allora stiamo attenti agli altri team quello che fanno tra l'altro ho appena iniziato una partita non l'ho Ma che cosa stiamo facendo frate Stiamo facendo la stelo stesso ponte stiamo facendo lo sai che è più è meglio farlo dall'alto il ponte Non devo spiegartelo io vero per questo mondo si renda conto di quello che ha fatto E mi rubo tutto l'oro intanto e dagli 21 pezzi d'oro mi sembra più che sufficienti e si ossina usare il suo ponte va bene va bene va bene Va bene così va bene così non ci lamentiamo che stanno facendo Oddio stanno proteggendo solo con la lana al letto cosa stanno facendo Allora prendiamo prima cosa item shop l'arco perché l'arco early game è la cosa migliore che esista Bisognerebbe anche avere dell'oro ma questi sono fottuti tutti se arrivo a 12 pezzi d'oro Gli dare sarebbe 14 potrei farmi l'armatura di ferro Che cosa no porca vacca ma che cosa da dove da dove da dove è uscito il tipo verde Non abbiamo più letto ecco allora ragazzi siamo fottuti ora più che mai bisogna condividere Mannaggia ora da questo io ho solamente tre diamanti spiega cosa faccio con tre diamanti siamo siamo finiti ragazzi siamo finiti Due diamanti nella cesta ok Allora facciamo un team upgrade la prima cosa da fare ovviamente è l'aeronforge ragazzi Neanche a chiederlo senza eronforge qua siamo veramente non fregati di più cerco mi prendo l'armatura per forza dove prendermi l'armatura Cerco di prendermi delle frecce così possiamo difenderci visto che qui è tutto a volo nel senso non ci sono Strutture altre cose non ho letto quindi tutto quello che farò ora è hardcore nel senso posso portarmi dietro tutto perché tanto se muoio muoio Non è che ci sono tante alternative Quindi io faccio i miei giretti alla prendere diamanti cerco di prendere il più possibile Cerchiamo di aumentare l'aeronforge Al massimo storico nel senso più ce n'è meglio è quello che fa per tre Non so se faceva così la fila stroke fatto sta che più diamanti abbiamo più abbiamo una possibilità anche se remotissima di riuscire ad arrivare a letti game o di almeno distruggere il letto di qualcun altro Oddio distruggere il letto di qualcun altro non si può fare lo spiego perché non abbiamo letto quindi se non respawniamo semplicemente Quindi non è impossibile di più Indicibile neanche impossibile indicibile Comunque ho un arco questo già ci dà un grande vantaggio Abbiamo quattro diamanti che per momento non servono ma molto praticamente potrei arrivare a otto e cercarmi di dare No 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 scherzavo bisogna ragazzi bisogna puntare tutto o Ok a ragazzi i diamanti non mi fido moltissimo del mio team in questo momento con il ritengo io e Cerchiamo di prendere più diamanti possibili semplicemente la cosa che possiamo fare cercare per no cosa vuoi fare tu non dimmi che vuoi andare a Spaccare il letto di questi ma lo sai vero che ci ci farei ammazzare questo ci fa ammazzare Bravo perché ci vuole spedito l'iniziativa ma questo ora ci fa ammazzare Incredibile il letto rosso è stato di strutture verdi o i verdi o ma sembra lo stesso azza è nato 1293 1923 questo qua è nato nel 1923 non credo Fatto sa che sta ammazzando tutto quindi a noi va bene in realtà se li ammazza tutti ok abbiamo sei diamanti No mi devo arrivare a otto porca vacca Eccolo ce l'ha lui diamanti Dami diamanti frate mi servono per la forgia Non possiamo andare in giro al go get them Porca trovi vabbè vabbè questo stanno da prenderli è gentile almeno Stanno facendo questo la stanno facendo il trasloco non ho capito mica questo ce l'ha in mano diamante me lo vuoi dare per favore Grande gioi è andato a prendere diamanti No facciamo 2 1 2 è grande Addirittura siamo 8 precisi boom Ironforge goldenforge ok ora abbiamo dell'oro che in teoria mi ha spavolato più frequentemente dovremmo riuscire a fare cose Questa è l'idea almeno detto ciò detto ciò arriviamo a una buona quantità Ehm prendiamo subito vi dirò io cosa prendiamo subito una spada Una spada di ferro costa 7 gold ma è uno degli investimenti migliori che possiamo fare Prendo anche un piccone Nessuno Cosa Cosa vuoi? Ah i diamanti anche lui grazie Un diamante vabbè li metto li metto qui frate li metto nella cesta si non ti è che me li sputti addosso li metto nella cesta Ok posso prendere altre frecce c'ho 32 frecce non sono molte ma non sono neanche poche Io direi prendiamo gli iron golem Non posso prendere solamente uno orca vacca I salti che è successo ciao che è Ecco allora mi sta andando l'oro raga non mi sa che è fan Si sa che questo potrebbe essere fan allora io lancio l'iron golem sperando che non vada da nessuna parte C'è un tipo lì guarda come lo faccio morire tanto 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 se oddio non riesco a beccarlo vuoi morire oddio non Però è che non cadrà mai così sì ma perché hai distrutto quel ponte ce n'è un altro Non ho capito con quale ragionamento ha fatto una cosa di questo tipo va bene non è un problema non è un problema perché se fanno le cagate gli altri Noi siamo contenti in realtà prendiamoci delle frecce raga l'obiettivo il team rosso è andato il team verde il team verde è quello più Pericoloso perché quello che ha distrutto tutto da tutti praticamente quindi bisogna fare così prendiamo otto gold Prendo un piccone che non piccone Spostiamo tutte le cose in ordine prendiamo un altro e un golem perché ho l'impressione che ci potrebbe servire e lo piazziamo sempre qui Attento a non cadere massimo sono due e un golem per il giocatore quindi ho piazzato i miei due e più di così non posso fare ha distrutto anche quella Distrutto ma sta distrutto tutti i punti perché ha paura che andiamo a spaccarlo ok ho capito ma non mi interessa Jack attack 16.000 quello si chiama che bel nome abbiamo comprato l'armatura rinforzata con i diamanti e quindi ok però nel senso io Spingerei sul prendere con i 12 diamanti la forza che ci dà gli smeraldi senza quella ragazzi non abbiamo molto Abbiamo molto da fare semplicemente senza smeraldi non abbiamo gioco non possiamo combattere contro nessuno io rischierei Mi prendo una cesoia e vado a spaccare il loro ponte quindi ricostruisco il mio e distruggo Loro sembra solamente in due tra l'altro madonna mia la vedo difficile ragazzi a prendiamo le cesoie Ho dei diamanti no vabbè tanto li lascio qui sono sono quattro diamanti io direi facciamo così prendo dei blocchi Do le cesoie dove sono le cesoie eccole qui che se non sbaglio sono anche permanenti le cesoie Ma come ha fatto a distruggere il ponte fino a qui ma chi lo sa vabbè Non ci interessa Spero solo che non abbia un arco e che non venga verso di noi stanno sparando non so chi mi ha visto ma mi stanno sparando io non vedo nessuno Che mi sta sparando non vedo nessuno Posso andare verso il centro sul centro se potrei ragazzi io non vedo nessuno chi è che mi ha sparato ho visto una freccia arrivare Anno a prendere diamantucci va quattro diamanti buono Buono quattro diamanti è vero che il team rosso non c'è più potrei andare da loro e cerca di prendere le loro risorse è un po Un azzardo ma è meglio di nulla scoprarsi quattro diamanti che c'è fatto no 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 Diamanti diamanti frate che cosa sta succedendo ok abbiamo quattro vedi quattro ero un golem alla grande l'esercito di ero un golem ragazzi fighissimo Ti ho detto che questa era fan Il letto 2 è stato distrutto raga ci sono solo i verdi ci sono solo i verdi Ok c'è un verde lì io potrei provare a continuare a fare il ponte piano piano Veloce veloce raga ho un ansia addosso che qualcuno mi stia per sparare Veloce e dagli diamanti per noi quanti 12 giusto giusto quelli che ci servono per prendere gli smeraldi e dagli Ok abbiamo questa io direi ragazzi proviamo a prendere del fireball Prendiamo delle mele d'oro anche che dici fireball e mele d'oro Nacca la il blu già non ci stanno più Poi vengono a cercare noi questi cosa pensi la vedo brutta la vedo molto brutta Paglia il blu team non c'è più e ma io che faccio potrei andarmi a nascondere ragazzi E' l'unica cosa sensata da fare al momento andare a nascondersi e guardalo qui Questo come come minimo ha un arco e ora mi sparerà Oppure no corriamo Veloci Oh mamma mia che ansia che ansia 8 diamanti vai prendiamo le sharpe niente cose Vabbè prendiamo gli smeraldi L'obiettivo è arrivare almeno a 6 smeraldi per farsi l'arco potenziato Perché questi devono arrivarci qui su quest'isola E se ci arrivano su un ponte con il mio arco con knockback in teoria Potrei riuscire addirittura ad ucciderli Questa è l'idea Poi bisogna vedere se ci riusciamo Punch 1 è questo che dobbiamo ottenere Il punch 1 Abbiamo maxato l'iron force non si può più fare Ah no sì che si può fare 16 diamanti Oddio ci sono i tipi verdi Potete cadere per favore Oh mamma ho ammazzato il mio amico Così si fa Tu dov'eri Tipi verdi volevo ammazzarci Mi sono inculato allo smeraldo Ma che vuoi fare? Che vuoi fare frate? Lo spieghi? Andiamo con la spada perché questo altrimenti ci ammazza Oddio non ci credo l'ha ammazzato Ok è morto Ho paurissima Ho ufficialmente paurissima Dammi subito tutti Tutti gli iron golem che posso avere Uno Un iron golem Oh mamma mia Oh mamma mia ragazzi Me l'adoro Me l'adoro subito Instant Iron golem Vediamola che cosa fa Qua frate Vieni Vieni Vediamo cosa fai Orca vacca raga sono in due Raga il fatto che sia riuscito A resistere così a lungo Mi fa onore Ma purtroppo abbiamo perso Game over Vabbè del resto ragazzi non si possono vincere tutte Non si possono davvero vincere tutte E tra l'altro io ho avuto una fortuna incredibile che tutte le partite che registro di solito Di solito O almeno nel passato Quelle che ho caricato Le vincevo Le ho vinte Questa è stata un po' sfortunata in realtà Un po' tanto C'è tipo un query squadra Che per mezz'ora mi ha chiesto Stai registrando? Stai registrando? Stai registrando? Stai registrando? Non te lo dico se sto registrando Perché se ti dico di sì Mi inizia a dire Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al mio canale Per favore Iscrivetevi Iscrivetevi Di una cosa sono contento però Sono riuscito a fare Un mini esercito di golem Perché Ne avevo messi due io Ne avevo messi due l'altro tipo Quattro golem a difesa Ci ha aiutato a rispingere il primo attacco Che ci hanno fatto i verdi Quindi alla grande Sono esperienza ragazzi Comunque per questo video vi dico che è tutto Mi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo che mi piace Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Seguimi su Twitter Iniziali a Facebook E ovunque voi vogliate Io vi saluto Ciao a tutti A tutti Ciao a tutti